Don Nunzio Falcicchio, parroco della Chiesa, Redentore. Ecco, siamo nell'area di 30 capilli ed è una festa in programma, quella importante, che si terrà il 15, 16 e 17 aprile, ottava edizione. Esatto, 15, 16 e 17 aprile, quindi venerdì, sabato e domenica, c'è l'ottava edizione della festa del Santissimo Redentore. Inizieremo proprio venerdì sera con un momento di preghiera alle ore 19, aperto in modo particolare per i bambini, ragazzi, giovani. Sarà guidato questo momento di preghiera da frate Adriano, della comunità dei frati minori di Fiesole e subito dopo ci sarà uno spettacolo di prestigio, di magia, per aglietare questa serata appunto per i bambini e i ragazzi. Condotto dallo stesso padre Adriano, giusto? Lo stesso fra Adriano che sveste i panni un po', o meglio sul saio, indossa altri panni e quindi diventa mago magone. Ecco, venerdì sarà questa giornata dedicata ai bambini e ai ragazzi. Sabato? Sabato invece inizieremo alle 15 e 30 con la biciclettata, cioè una passeggiata in bici intorno alle vie del quartiere, poi ci sarà alle ore 18 e 30 la messa con il vescovo e alla fine della celebrazione alle ore 20 la fanfara dei Bessalieri del reggimento di Altamura ci aglieterà con un bel concerto all'interno dell'auditorium. Domenica 17? Domenica 17 al mattino ci saranno le celebrazioni delle messe, ci sarà anche un momento di animazione curato dal medievale, curato da Federicus e quindi tamburi, sbaglieratori e poi al pomeriggio ci sarà alle ore 18 e 30 l'altra celebrazione eucaristica e al termine della messa ci sarà la solenne processione per alcune vie del quartiere. Ecco Don Nunzio, la festa del Redentore, ottava edizione, oltre ad essere una vera festa, un inno religioso è anche un'altra festa, quella della socializzazione per vivere il quartiere. Sì, sono le giornate della gioia, dello stare insieme per vivere il quartiere e per aglietare anche magari dei giorni un po' bui attraverso un po' di luce, attraverso un po' di speranza, ritrovare serenità e ritrovarsi con gli altri. E balconi abbelliti? Balconi abbelliti è una delle esperienze che già siamo alla seconda edizione, che abbiamo lanciato per abbellire i balconi del quartiere, per rendere vivo questo quartiere perché se non prendiamo cura, non ci prendiamo cura noi del quartiere, non lo fanno altri. Quindi dobbiamo abbellire i nostri balconi per rendere un po' gioioso e in festa questo bellissimo quartiere della zona del Santissimo Redentore. 15, 16 e 17 aprile, ottava edizione della festa del Redentore. Grazie Don Nunzio. Grazie a voi. Grazie.